bella vecchi ragazzi siamo tornati qui con un nuovo video di Akinethor e oggi non possiamo non cercare come ci avete detto tutti quanti praticamente sono giapponese sono giapponese e se non possiamo non cercarlo no infatti è di nazione italiana? l'amico nostro? eh no è giapponese questo personaggio si sta vero? siii questo personaggio ha a che fare con la musica? no no però chiede qualcosa a San Gennaro questo personaggio ha a che fare con il mondo dello sport? no si perfetta la maglia del napoli non lo so di questo personaggio è maschio? si è un attore? no un attore giapponese è morto o no? non ancora penso di si non lo so si è mai sposato? non lo so questo personaggio ha a che fare con il mondo dei videogiochi? no? lavora in televisione? no? mai vissuto in america? non credo non lo so no non penso è giapponese è internet grazie a youtube il ragazzo che dice sono giapponese nooo no raga ci sta l'ha trovato vai si sei un genio vai miss italia o di pre miss italia miss italia vai no 35 anni? no è maschio? no quasi si purtroppo è famoso anche se gli piacerebbe vivere farsi in germania alle 42 canta occhi profondi no no ha mai avuto dei figli? no noto per la musica? no per le cazzate si la musica no grazie a una professione di vini si si ma anche leggo relevisiva ogni volta? non lo so sei fidanzata si comunque forse con un generale fidanzata comunque si ha partecipato a miss italia eccola hai capelli colorati? no no ha vinto miss italia Alice Sabatini ma raga quanto è brutta è brutta raga ma quanto è brutta raga è proprio brutta cioè è proprio brutta in culo fermate ma come ha fatto questa a vincere miss italia cioè è una cosa che penso che non lo so è più bella la vicina di casa mia senti ha vinto pure la campionza di inter quindi può vincere la miss italia è la squadra più forte in europa in quel momento c'è è molto più forte ma che cazzo stai agire ma che cazzo stai agire a dire questo personaggio è maschio? si ci siamo cercando di pre per chi non lo sapesse questo personaggio è in Italia? si si è mai sposato? boh si è sposato alla fine che la cosa? non credo spero di nuovo che lui guarda no ma è un film? porno? no a che fare nel mondo dello sport? se pippare cocaina la mattina della sera sport? si secondo me si è mai parso in televisione? si si è un cantante? no ha fatto una canzone però eh le canne la quella con max felicitates no quella proprio sua andiamo nel privé tipo che si chiama nel privé come cazzo è? andiamo non lo so comunque no è un cantante no non è un cantante però ha fatto ha condotto un programma è di pre per il sociale ma non è si 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 ha che fare con il mondo della cucina? no cucina cocaina 50 modi per cucinare la cocaina non super santo lavora in rai? no cala gambe del cielo? che vuoi di? no 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 non so eh si è lui super santo porta gli occhiali? no no super santo è il crito di rai? si si eccala andrea di pre bravo E non puoi cercare di presa senza cercare Sara Tommasi Perché io per certo sono curioso della foto che hanno messo di Sara Tommasi Hanno messo di Sara Tommasi? No, per me hanno messo tipo quella della parrucca del porno Eh, quella parrucca che sta così Il suo personaggio è firmina, guarda, a parte Ma è proprio correllata la cosa Che poi è una gran figlia lei una volta Ti ricordi? Ti è mai sposato? Boh, non lo so Non lo so, infatti, non lo so Canta No Infortunatamente no Canta a letto Sì Non c'era poco Oh, ha recitato un film, è porno? Sì Devo mettere sì, per forza Ha girato un film di porno? Sì Te No, non è Nappi Non era Nappi Oh, è morto Ma te l'hai letto che è nel sud? No, non hai capito perché è in provincia di Napoli No, ma è di Roma, Tommasi È un cantante? No Attualmente mi ha 90 anni? No Ha a che fare con Haruka Nase? No Chi cazzo è? Non lo so Scusa, eh No, perché so con lo so Haruka Nase Ma che è? Ma che è scusso? È un manga qualcosa Ma raga, ma chi è? È biondo? No È stato tanti i colori No, no, è sempre stata Castana Il suo passaggio di Cina Mauritana? No 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 Scrivi No 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 Che ne so Non lo so Fa parte del trio delle Crestè Andato nel Lazio? Sì Yes Ha un nome d'arte? Blò Ha che fare con Andato di Prea? Sì È stata convolta in uno scandalo? Sì Abita No Treviso? No Ma non è stata convolta Quale scandalo è stata convolta? Eh sì Per forno è stato uno scandalo È stata in relazione con Andato di Prea? Sì Sì Qui sotto il video dobbiamo cercare Per la prossima volta Niente Volta Come sempre Volta Beh grazie è tutto Bella Ciao Bella Ciao Ciao Ciao